No, abbiamo ancora più voglia di combattere perché è quello che è accaduto e quello che potrebbe accadere sarebbe un vero e proprio stupro delle istituzioni. La Presidenza della Repubblica deve essere un'istituzione che unisce e non che divide. Mi sembra che la sinistra che ha preso alle elezioni meno di un terzo dei voti abbia avuto una considerazione eccessiva della sua forza. Non si può proporre un Presidente della Repubblica di parte, il più contrapposto all'altra parte, dopo aver rivendicato la Presidenza del Consiglio e aver già preso il Presidente della Camera e il Presidente del Senato. Così si vuol dividere il Paese.